Somnium Scipionis, capitoli 14, 15, però prima di iniziare il capitolo quattordicesimo dobbiamo finire il tredicesimo. Facciamo così, questa volta ascoltiamo un compositore straordinario che è Sergei Rachmaninov in un concerto per pianoforte, il suo concerto per pianoforte e orchestra numero 3 e in una serie di altre composizioni straordinarie. Allora, stavamo dicendo, come termina il capitolo tredicesimo, non abbiamo tradotto l'ultimissima frase, Arum rectores et conservatores inc profecti uc rever tuntur, che vuol dire? Arum rectores, i reggitori, cioè coloro che reggono e coloro che custodiscono, mantengono le città, da qui, da questa zona del cielo partono e poi qui ritornano inc e uc, a verbi di luogo che stanno a indicare appunto il cielo, dove sono destinati i benefattori dello Stato. Come abbiamo spiegato già la volta scorsa, ecco c'è come una sorta di, come dire, d'immagine anche politica delle anime, delle anime beate. Secondo Cicerone, le anime che possono godere di un ruolo privilegiato nel cielo, dopo la morte insomma, sono appunto quelle che hanno, sono i benefattori dello Stato, che hanno retto lo Stato oppure che l'hanno conservato. Allora, gli Stati sono garantiti nella loro unità aggregazione dal diritto, che ha un suo fondamento proprio nell'intuizione del principio del giusto, la giustizia insomma, un ideale che gli uomini hanno dentro di sé, possiedono in sé. E' quindi importante che chi si prende cura di questo, chi si prende cura della giustizia, del bene comune, sia ricompensato. E questo avviene, questo è il criterio di giustizia insomma, e questo avviene dopo la morte, quando queste persone, le loro, le anime salgono nel cielo e possono ritornare là da dove sono partiti, insomma, in questo luogo celeste loro destinato. Forse qua Cicerone riprende dottrine pitagoriche, crede nell'immortalità dell'anima, ma assegna solamente a questi uomini politici, i benefattori dello Stato, una comunità e un ruolo, una funzione e una sorte così privilegiata. Da un punto di vista grammaticale. Rectores e conservatores sono i due soggetti. Abbiamo detto letteralmente i reggitori e i conservatori delle quali, delle quali città, dei quali stati, insomma, le civitates del periodo precedente. Profetti. Partiti da qui, questo profetti è un participio congiunto da proficiscus, proficisceris, profectus un proficisci, uc revertuntur. Revertuntur è un presente indicativo dal verbo revertor, reverteris, reverti. Ecco, questo è un verbo semideponente. Generalmente, infatti, ha il deponente solo al presente e temi del presente. E poi ha, invece, il perfetto, regolare, attivo, insomma. E infatti qua è deponente, vedete? Ritornano le vertuntur ed è deponente, cioè ha una forma passiva ma ha un significato attivo. E così termina il tredicesimo paragrafo. Andiamo adesso al quattordicesimo paragrafo, che è quello, così l'abbiamo sintetizzato noi, è quello in cui, oh mamma, se riusciamo a cambiare slide, però, ah sì, l'abbiamo chiamato così, la speranza che i cari estinti vivano. Il vostro libro lo chiama in questo modo, la vera vita. Allora, questo è il capitolo, il paragrafo, in cui si, qui l'Emiliano viene a sapere la sorte di suo padre e proprio improvvisamente compare lo stesso padre di Emiliano, suscitando la commozione nel figlio. L'idea della morte come ritorno dell'anima alla sua sede originaria, abbiamo già detto, è di derivazione pitagorica e poi ripresa da Platone. Insomma, l'anima è come imprigionata in un carcere, finalmente si può liberare solo dopo la morte. A questo punto io, anche se ero rimasto atterrito, non tanto dal timore della morte, quanto dall'idea del tradimento dei miei, a questo punto io, ic, ego. Allora, questo ic significa, diciamo, a questo punto, io, ego, soggetto, anche se introduce una proposizione concessiva, anche se ero stato spaventato, ero rimasto atterrito. Infatti, perterritus eram è il più che perfetto, passivo, del verbo perterreo, perterrui, composto di terreo, terreo, terras, terrui, territum, terrere. Terrere, scusate, perché è della seconda. Perterreo, perterras, perterrui, perterritum, appunto il tema del supino, perterrere, da cui deriva questo perterritus eram, quindi questo più che perfetto passivo. Non tanto dal timore della morte, quindi complemento di causa efficiente, metu, mortis è, complemento di specificazione, quanto dall'idea del tradimento dei miei, quanto dal timore, sempre, metu, sottinteso, delle insidie, letteralmente, dei tranelli provenienti dai miei. Quindi insidiarono di specificazione, ameis, diciamo, complemento di origine e di provenienza. Insomma, Scipione ha saputo da suo padre, in alcuni paragrafi che non abbiamo tradotto, che sarebbe morto presto, e che questa sua morte sarebbe stata causata dai suoi familiari. Questo, evidentemente, l'aveva molto turbato. Quesivi, quesivi è il verbo della principale. A questo punto io chiesi, gli chiesi, ovviamente chiesi all'anima di mio nonno, tuttavia, tamen, viveretne, quel ne introduce una interrogativa indiretta, il cui verbo, appunto, viveret. Se fosse ancora in vita, egli stesso, cioè, gli chiede se gli sta, come dire, apparendo in una visione, ma di fatto lui non vive più, oppure se è ancora viva la sua anima, si intende. Et Paulus pater, e mio padre Paolo, e gli altri che noi riteniamo estinti, sono ancora vivi oppure no? Allora, chi è il padre Paolo? Il padre Paolo è un grandissimo generale, Lucio Emilio Paolo, figlio del console morto a Canne nel 216 a.C., sconfigge i macedoni nella importantissima battaglia del 168 a.C. a Pidna, e quindi fu chiamato il macedonico, per lo stesso motivo per cui, insomma, Scipione era stato chiamato l'africano, il vincitore della seconda guerra punica, e l'emiliano è stato chiamato così per le sue vittorie in quella regione. Ebbene, il padre di Scipione, l'emiliano, pur essendo un grande generale, era poi, da un punto di vista economico, era andato un po' in rovina, pertanto, aveva chiesto a Publio Cornelio Scipione di adottare, ricordate la linea genealogica che abbiamo visto, insomma, nella prima lezione, di adottare il figlio, e quindi questo è il motivo per cui il figlio si chiama Publio Cornelio Scipione l'emiliano, anche se è figlio di Lucio Emilio Paolo. E poi dice, gli altri che noi riteniamo estinti, che noi consideriamo morti. Qui abbiamo invece una frase relativa, quindi viveret è l'imperfetto congiuntivo di vivo vivis, vixi victum vivere. Ipse, Paulus e tali sono i soggetti di questa interrogativa indiretta. e poi abbiamo la relativa che noi riteniamo, che noi consideravamo, scusate, morti. La proposizione relativa è il congiuntivo perché si tratta di un discorso indiretto e per l'uso dei tempi, quindi segue la consecucio temporum e quindi va al congiuntivo invece che all'indicativo. Che noi ritenevamo, sì, perché sarebbe un imperfetto, ma possiamo anche tradurre il presente, per carità. Basta che sappiamo che arbitraremur è il perfetto congiuntivo di arbitro, arbitras, arbitror, scusate, deponente. Arbitror, arbitraris, arbitratus sum, arbitrar, deponente evidentemente, no? Quindi con la forma passiva ha quel significato attivo. Ecco, quos è complemento oggetto, nos è soggetto, extintos è il predicativo dell'oggetto, predicativo di quos. Ecco, adesso andiamo al cuore del capitolo quattordicesimo in cui si esprime questo concetto di corpo come carcere per l'anima. Concetto, dicevamo, ripreso da Platone, il quale a sua volta l'aveva preso da Pitagora. Infatti, secondo Cicerone, la vera vita è quella dell'aldilà a cui si può accedere solo dopo aver rispettato il munus, il dovere imposto all'uomo dal Dio che consiste nel sopportare la vita terrena per tutta la sua durata. È un munus, è un dovere gravoso, è un dovere pesante, è un dovere assegnato a Dio, assegnato da Dio all'uomo. Ma occorre insomma compiere questo dovere. Poi finalmente, però, una volta che uno muore può liberarsi dal corpo, perché il corpo è solamente un carcere. Immo vero, inquit, i vivunt, qui a corporum vinculis tanquame carcere e volaverunt, vestra vero que dicitur vita, mors est. Anzi, immo vero, quindi, anzi, al contrario, no? Quindi, avverbi, inquit, disse, disse Scipione l'africano, che sta parlando con il nipote. i vivunt vivono quelli, vivono costoro, sì, è proprio così, insomma, vivono quelli che volarono via dalle catele, e volaverunt, volarono via proprio letteralmente. C'è l'immagine del corpo come carcere da cui l'anima desidera liberarsi. Quindi, si involarono, e volaverunt, volarono via. è qui un'immagine che è un'immagine presa dall'orfismo. I misteri orfici rappresentavano l'anima come un uccello che vola in cielo al momento della morte del corpo, finalmente liberandosi da esso, cioè liberandosi dal corpo. Quelli che volarono via, e volaverunt, volo volas, volavi volatum, volare, questo è il composto, e volo, e volas, e volavi, e volatum, e volare. con il preverbio e, e o ex, che indica proprio via da, ecco, quelli che volarono via dalle catene, ribadito dalla preposizione, e vinculis, complemento di allontanamento o separazione, e vinculis, dalle catene, dei corpi, del corpo, complemento di specificazione, tamquam e carcere, come da un carcere, così come tamquam, così come da un carcere, anzi, vivono, vivono e come, no, potremmo tradurre questo, in vero, vero, in verità, vivono, quelli che volarono via dalle catene del corpo, come da un carcere, vero, che vuol dire invece, al contrario, qui con un valore direi avversativo, quella che voi chiamate vita e morte, vita morsa, è uno simono, perché i due termini antitetici sono posti l'uno a fianco all'altro, al contrario, quella che voi chiamate vita, destra, insomma, quella che, quella vostra, quella vostra, la vostra, che voi chiamate vita, destra sarebbe una specie di soggetto di est, insomma, la vostra, che è chiamata vita, in realtà è morte, est mors è un predicato nominale, cioè copula più nome del predicato, la vostra, quindi nominativo femminile singolare, que dici tur vita, che è detta vita letteralmente, è la frase relativa, dove vita è predicativo del soggetto, la vostra, la quale, è detta vita, quindi, que è il soggetto, pronome relativo al nominativo femminile singolare, vita è predicativo del soggetto, dicitur, è presente indicativo passivo di dicodicis, dixi dictum dicere, invece, quella che voi chiamate vita, è morte, ecco qui, il concetto, dicevamo, di derivazione platonica, della vita come un carcere, una cosa ben penosa, pesante, dicevamo, da sopportare, tanto che, addirittura, con un paradosso, la definisce una morte, Scipione è l'africano, parlando con il nipote, la definisce in questo modo, una morte, riprende questo paradosso dal gorgia e dal cratilo di Platone, sono due dialoghi, e quindi, già con grande efficacia, lo stesso Platone, e ora qui, Cicerone, evoca l'immagine dell'anima imprigionata nel carcere del corpo, e quindi, in un certo senso, quasi morta, perché è costretta a questo carcere, che finalmente può liberarsi, ma andiamo ad analizzare, qui abbiamo proprio un'analisi del lessico, inquit è una incidentale, vivunt, i vivunt è la principale, corporum vinculis, o vinclis, le catene del corpo, rimanda alla concezione del corpo, vista come un carcere dell'anima, evolaverunt, è la subordinata relativa introdotta dal qui, dicitur, è il verbo, scusate, anche dicitur, è il verbo di una subordinata relativa introdotta da que, est invece è coordinata, come ho detto, versativa, al contrario, è morte, ecco, dal punto di vista dell'analisi retorica, notiamo le alliterazioni, quindi ad esempio l'uso frequente della i in questa parte del testo, notiamo il chiasmo, dicitur, vita, morse, est, verbo, sostantivo, sostantivo, verbo, quindi come vedete l'espressione è resa in modo molto, molto intenso, volevo dire, sia a causa del paradosso, sia a causa dell'ossimoro, sia a causa del chiasmo, quindi vediamo un po', alliterazioni, chiasmo, poliptoto, qui, qui, ci sono molte relative, e quindi anche il pronome relativo, presente con varie terminazioni, quinn, tu aspicis a te venientem paulum patrem, non scorgi tuo padre Paolo che ti viene incontro, non vedi, non scorgi, padre Paolo che ti viene incontro, ecco, qui abbiamo anzitutto un quinn, possiamo poter parlare anche con perché, perché non vedi tuo padre, padre Paolo che ti viene incontro, di per sé, quinn è un avverbio, che introduce una interrogativa retorica, volitiva, in cui la domanda equivale a un invito, a un comando, come fai a non vedere, insomma, tuo padre Paolo, l'anima si intende del padre Luce Milo Paolo, che viene incontro, quinn, tu aspicis, vedi, aspicio, aspicis, aspexi, aspectum, aspicere, è un verbo che vuol dire appunto guardare, vedere, osservare, qui la seconda persona presente indicativo, patrem paulum, è il complemento oggetto, più la posizione, ovviamente, no? non vedi, tuo padre Paolo, il padre di Scipione, l'Emiliano, un uomo integerimo, un abile comandante militare, vincitore a Pidna, dicevamo, no? Quindi, è chiaro che la vittoria, contro i macedoni, a Pidna, diede, un po' adito, l'inizio, insomma, della, insomma, fu la conquista definitiva, essenzialmente, della Grecia, da una parte, ma anche fu l'inizio della ellenizzazione, della cultura romana, avvenuta proprio, per esempio, all'interno soprattutto, di quel circolo dei Scipioni, di cui, Scipione, Scipione, Emiliano, Lelio, i protagonisti di questo dialogo, della Repubblica, sono i principali esponenti, non vedi, quindi, tuo padre Paolo, venientem ad te, mentre viene da te, che viene incontro a te, venientem, infatti, è un participio congiunto, è un participio presente, da venio venis, veni vento un venire, ad te, complemento di moto, a luogo, che viene verso di te, mentre viene verso di te, quem ut vidi, equidem vim lacrimarum profudi, illeautem me complexus, atque osculans, flere proibibat, quem ut vidi, abbiamo un'anastrofe, ut vidi quem, dovuta, scusate, anche al nesso relativo, cioè, abbiamo un nesso relativo, ecco meglio, cioè, abbiamo un pronome relativo, nella prima posizione della frase, che quindi dobbiamo tradurre come un dimostrativo, non appena lo vidi, ut, congiunzione temporale, stavolta ut più indicativo, vuol dire appunto, non appena, quando, lo vidi, non appena, lo vidi, vidi lui, quem, pertanto è, riferito a luce milo paolo, complemento oggetto, accusativo, maschile singolare, vidi, perfetto indicativo, di video vides, vidi visum, videre, non appena, lo vidi, subordinata, temporale, versai, profudi, davvero, equidem, senza dubbio, vim lacrimarum, un fiume di lacrime, letteralmente, versai, una violenza di lacrime, non so, una forza di lacrime, per dire, immagine molto forte questa, questa del profudi, vim, insomma, scoppiai subito in un, in un gran pianto, dopo l'interrogativo, Quinn, che ricalca le formule sceniche, usate per avvertire dell'entrata di un personaggio, a te veniente, in paolo, un patrem, la scena, con il particolare, delle lacrime, ritorna, nell'ambito, tipico, dell'incontro personale, nell'oltretomba, che, evidentemente, come vi ho detto, ha ispirato, ha ispirato Dante, no? Anche, spesso Dante piange, giusto, nella Divina Commedia, quando, quando vede, insomma, personaggi, a cui è legato, o commosso, insomma, dall'incontro. Versailles, un fiume di lacrime, profundo, profondere, da qui l'italiano, profondere, profundo, profundis, profudi, profusum, profondere, è un perfetto indicativo, a prima persona singolare, io, Versailles, davvero, equidem, senza dubbio, avverbio, vim, complemento oggetto, no? 58 così, un fiume, di lacrime, mentre egli, autem, il, invece, lui, autem, significa più o meno, invece, lui, d'altra parte, me complexus, abbracciandomi, allora, complexor, complexteris, complexus sum, complexi, è un verbo deponente, della terza conigazione, e significa abbracciare, questo è un participio congiunto, un participio perfetto, congiunto, è vero che è perfetto, ma possiamo tradurlo, col presente, col presente, perché indica comunque contemporaneità, spesso, participi perfetti, di verbi deponenti, possono essere tradotti, al presente, è il caso di questo complexus, anche osculans, è un participio congiunto, e indica anch'esso contemporaneità, il verbo baciare, si poteva dire, sembra che sia deponente anche questo, osculor, oscularis, osculatus sum, osculari, egli quindi, abbracciandomi, e baciandomi, flere proibevat, cerca, abbracciandomi, e baciandomi, cercava di frenare il mio pianto, cercava di calmare il mio pianto, letteralmente, mi proibiva di piangere, certamente, non in modo, così, iussivo, diciamo così, cioè, in positivo, cercava di frenare il mio pianto, infatti, questo imperfetto, proibevat, è di conato, cioè un tentativo, diciamo, tentava di, ecco, certe volte, l'imperfetto, anche i perfetti, possono essere di conato, cioè, esprimere la volontà di, il tentativo, la ricerca, il tentativo di fare una cosa, piuttosto che, farla proprio in modo, così, forte, in positivo, diciamo, quindi, proibevat, è l'imperfetto indicativo, di proibio, proibes, proibui, proibitum, proibere, della seconda coniugazione, mentre flere, è l'infinito presente, di fleo, fles, flevi, fletum, flere, che vuol dire piangere, no? Bene. Allora, nel paragrafo, o capitolo seguente, il dialogo con il padre, Lucio Emilio Paolo, quindi, trova suo padre, l'emiliano vuole rompere gli indugi, indugi, è così contento, di vedere il nonno, il padre, che vorrebbe, subito raggiungerli, togliendosi la vita, a questo punto, però, il padre interviene, e gli spiega, che non è, possibile questo, non è giusto, non sarebbe giusto, il suicidio, il suicidio è, ehm, giustificato, dai, dagli stoici, come abbiamo studiato noi bene, quando abbiamo studiato Seneca, eh, ricordate, tanti, che avevano aderito allo stoicismo, che, soprattutto poi, dopo che la congiura dei pisoni, era stata sventata, da Nerone, si erano tolti la vita, trovando una giustificazione filosofica, proprio nello stoicismo, infatti, per gli stoici, il sapiente, eh, quando, la situazione, anche politica, insomma, eh, non permetteva altro, era giusto che il sapiente, si togliesse la vita, anzi, era una dimostrazione, della sua forza d'animo, ha detto, ebbene, questa teoria degli stoici, è assolutamente in contrasto, eh, con quella di Platone, eh, in generale, volevo dire, con le altre, le teorie filosofiche, in realtà, in un dialogo di Platone, c'era stato, uno, dei personaggi di questo dialogo, un certo cebete, nel fedone di Platone, che aveva, eh, che aveva affermato, che, insomma, aveva proposto, questa sua idea, no? della giustificazione del suicidio, ma Socrate, in quel dialogo, interviene Socrate, perché, sapete che nei dialoghi platonici, spesso, con il personaggio, c'è Socrate, Socrate, invece, aveva risposto, a questo tale, cebete, che, non era giusto, togliersi la vita, perché, appunto, come hai già detto in precedenza, la vita, è un munus, ad signatum, ad, è un dovere, assegnato, da Dio, all'uomo, e quindi, l'uomo deve portare fino in fondo, questo dovere, non può, quindi, sottrarsi, a, a questo, a questo dovere, prima del tempo, è evidente, qua, anche questa, può essere una motivazione, molte delle idee, contenute in questo Sommio Scipionis, erano perfettamente in sintonia, con la dottrina cristiana, del resto, è la stessa dottrina cristiana, che ha preso, tantissime idee, dal neoplatonismo, ad esempio, e quindi, è chiaro, che anche, questo concetto, insomma, del divieto del suicidio, è approvato, appoggiato, insomma, dai lettori, cristiani, da tutti coloro, tra i cristiani, che nessano, i Sommio Scipionis, che lo presentano, quindi dicevamo, anche nel Medioevo, quasi come una sorta, di testo esemplare, e quindi, abbiamo un po', introdotto questo brano, adesso è il caso, però, di leggerlo, di tradurlo, di commentarlo, e di analizzarlo. Atque ego, ut primum fletu, represso, loqui, posse, cepi, queso inquam, pater sanctissime, atque optime, quodiam ec est vita, ut africano, audio dicere, quid moror in terris, quodiam ec, scusate, ho letto male, quodiam ec est vita, ut africanum, audio dicere, quid moror in terris, atque ego, e io, non appena riuscì a trattenere le lacrime, ut primum, non appena, ecco, abbiamo visto, si può trovare ut da solo, oppure ut primum, con valore di congiunzione temporale, all'indicativo, no? Non appena riuscì, iniziai, letteralmente iniziai, cepi, cepi, cepisse, cepi, è un, perfetto, verbo difettivo, che si trova appunto, solo a perfetto, a tempi derivati da perfetto, non appena iniziai, letteralmente, non appena riuscì, a trattenere le lacrime, fletto represso, letteralmente, sarebbe, la frase sarebbe da tradurre così, non appena, trattenute le lacrime, iniziai a poter parlare, ecco, quindi, quel lut primum, abbiamo detto, che regge il cepi, ok, fletto represso, di per sé, sarebbe, un ablativo assoluto, quindi, la nostra slide, traduce, in modo libero, la frase, la traduzione letterale, sarebbe, non appena, una volta trattenute le lacrime, incominciai a poter parlare, potrei, potrei riprendere a parlare, quindi, fletto represso, dicevamo, ablativo assoluto, come tutti gli ablativi assoluti, costituito da un ablativo soggetto, che fletu, è un verbo al participio perfetto, che è represso, participio perfetto, di reprimo reprimis, repressi repressum reprimere, non appena, trattenute le lacrime, potrei riprendere a parlare, incominciai a poter parlare, abbiamo detto letteralmente, che Cepi è la prima persona di quel perfetto, di quel verbo difettivo, che regge sia, posse, cioè, regge posse loqui, insomma, posse è il verbo servile, che a sua volta è collegato con l'infinito loqui, quindi, posse, infinito di, possum potes potui posse, loqui, infinito di loquor, loqueris, locutus sum loqui, non appena potrei riprendere a parlare, l'abbiamo tradotta così, dissi, inquam, inquam, può essere utilizzato, in genere, come presente, ma indifferentemente, a questo punto, lo utilizziamo anche, come un perfetto, visto che è un racconto, storico, non appena potrei riprendere a parlare, io dissi, questo inquam, pertanto, regge il discorso diretto, queso, queso, di grazia, ti prego, eccetera, queso, è, un verbo, per favore, usato avverbialmente, come formula parentetica, è un verbo, insomma, che è rimasto, solo in questa forma, ecco, e, e quindi, è diventato poi quasi un avverbio, ti prego, di grazia, per favore, vedete voi come tradurlo, Pater, Santissime, Acque Optime, è il vocativo, si rivolge, Scipione del Milano, a suo padre, con questa formula, no? con due superlativi, il primo, si collega alla sfera del Sacro, Santissimo, degno di venerazione, e secondo invece, le virtù morali del Padre, ottimo, quindi, Padre mio, Santissimo, ottimo, difficili da tradurre questi, dicevamo, questi due superlativi, perché implicano tutto un, un giudizio positivo, insomma, su quest'uomo, da tutti i punti di vista, abbiamo già detto, comunque, era effettivamente, una persona, rispettabile, diceva, Padre mio, Santissimo, sarebbe il luce Emilio Paolo, di cui abbiamo parlato prima, quognam, ec est vita, è evidentemente, una causale, poiché questa è la vita, subordinata a causale, che addirittura, qua nella slide, viene tradotta con una ipotetica, come se fosse ipotetica, se, perché, è chiaro, questa è un po', diciamo così, diremmo la protasi, in un certo senso, cioè, la condizione, data la quale, a questo punto, c'è una conseguenza logica, cioè, visto che le cose stanno così, dal momento che è questa, questa che si vive qua, sulla Via Lattea, che voi mi state descrivendo, mi state rappresentando, voi, intendo dire, mio padre, mio nonno, se questa, qua, nei cieli, è la vita, è la vera vita, quando abbiamo, ec, ec, questa, soggetto, est vita, è la vera vita, est vita, predicato nominale, ut africano, come, sento dire, dell'africano, a quanto sento dire, dell'africano, è una specie di, comparativo, così come, così come io ascolto, audio, dicere, audio, audis, audiver, dito, maudire, dico, dici, dixi, dito, un dicere, così come io sento, che dice l'africano, letteralmente, che l'africano dice, infatti, africano, è una infinitiva, è il soggetto dell'infinitiva, di dicere, quid moror in terris, perché indugio, come mai indugio sulla terra, come mai rimango sulla terra, poiché questa è la vera vita, perché io rimango sulla terra, perché io indugio sulla terra, è un modo per dire, perché non mi tolgo la vita, se la vita è una morte, come appena ha finito di dire, l'africano maggiore, sulla scorta dell'insegnamento platonico, perché non vado laddove c'è la vera vita, quindi qua nel cielo, me la tolgo questa vita, quindi mi libero immediatamente, da questo carcere del corpo, quid, quid, est vita è predicato, verba, scusate, nominale, ho sbagliato, poiché questa, soggetto, è la vita, predicato nominale, devo aver sbagliato prima, non so, comunque sappiate che est vita evidentemente è copola, più nominale predicato, come, io sento che dice l'africano, quindi, comparativa più infinitiva, quid, moral in terris, ecco, questo quid moral, nel discorso diretto, è praticamente la principale, si chiama interrogativa diretta, dobbiamo distinguere le interrogative dirette, quelle col punto interrogativo, che sono principali, dalle interrogative indirette, come il viveretne di prima, che sono subordinate, perché io indugio moror, moror, moraris, moratus sum morari, indugiare, perché io indugio, sto qui ancora, interris, sulla terra, interris, sulle terre, perché indugio, sulla terra, quid, ucad vos, venire propero, perché non mi affretto, a raggiungervi qui, quid, perché non, ecco, quid, è perché affermativo, quindi quid, è un perché negativo, perché non, propero, non mi affretto, propero, properas, properavi, properate, un properare, perché non mi affretto, a venire, quindi questo propero, regge l'infinito venire, venio venis, venivento venire, a venire qui, avverbio di luogo, avverbio di moto a luogo, come abbiamo già detto, ma anche, traducendo la fine del tredicesimo, perché non mi affretto, a venire qui, a raggiungervi qui, da voi, a raggiungervi qui, da voi, ad vos, anche ad vos, ha un valore di moto a luogo, perché non mi ha fatto venire da voi, qui, qui da voi, in tutto il periodo che inizia con queso, la martellante all'iterazione del suono Q, quindi, sottolineiamo all'iterazione, abbiamo, queso, inquam, quognam, quid, e quin, scandisce, con particolare enfasi, le domande di Scipione, al padre, quindi, sempre più incalzante, Scipione, l'emiliano, quindi, cerca di, quasi di convincere, in questo modo, con queste domande incalzanti, che, forse, è la cosa più razionale, logica da fare, sarebbe quella, sarebbe quella di togliersi la vita, non è stita, inquietino, no, non è così, letteralmente, non è stita, vuol dire, non è così, è un no perentorio, no davvero, potremmo dire anche, quello, di Lucio Emilio Paolo, all'ultima domanda del figlio, in sostanza, implicitamente, come se il figlio gli avesse chiesto, ma allora è legittimo il suicidio, non è la cosa migliore il suicidio, cioè liberarsi subito da questo cacere, no, un no categorico, questo non est ita, inquietile, disse lui, cioè disse Lucio Emilio Paolo, nisi enim Deus, iss, cuius hoc templum est omne, quod conspicis, istis te corporis custodis liberaverint, uctivi aditus patere non potest, che vuol dire? Se non ti avrà liberato dal carcere del corpo, quel Dio, cui appartiene tutto lo spazio celeste che vedi, non può accadere che per te sia praticabile l'accesso a questo luogo, qui, se non, se non, nisi, regge l'ipotetica negativa. non ti può essere aperto, non è, patere non potest, questa è la fine, se non, se is Deus, sono due soggetti, sono due nominativi, quel Dio, no scusate, soggetto più attributo, questa volta issiaid ha valore di aggettivo, infatti, se quel Dio, is Deus, soggetto di liberaverit, cuius octemplum est omne, del quale è, cui appartiene, tutto questo spazio, lo spazio che vedi, cui appartiene, questa volta l'appartenenza è resa, con il genitivo di specificazione, cuius, del pronome relativo, di cui è, tutto questo tempio, è il soggetto della relativa, tutto questo tempio, scusate, scusate, ho tradotto tempio, ma evidentemente, è da tradurre con spazio, dovete infatti sapere che, la parola templum, all'inizio, significava volta, spazio, ambiente, poi dopo, ha preso un altro significato, quindi, significato religioso, ecco, tutto questo spazio, cuius è di specificazione, benissimo, cuius è di specificazione, benissimo, tutto questo spazio, tutto lo spazio celeste, insomma, in cui tu ti trovi adesso, quod cosficis, che tu vedi, è del quale, è di Dio, capite? Questo cuius, di specificazione, infatti, quod conspicis, è un'altra relativa, cioè una relativa di primo grado, una relativa di secondo grado, quod, è il pronome relativo, complemento oggetto, riferito a oc omne templum, tutto questo spazio celeste, no? Che tu vedi, quindi tu è il soggetto sottinteso di conspicis, ovviamente, e conspicis è la seconda persona singolare di conspicio, conspicis, conspexi, conspectum, conspicere. se un Dio, a cui appartiene tutto lo spazio celeste che vedi, non, nisi, ricordate, se non, non ti avrà liberato, se non Dio, non ti libererà. Liberaverit, infatti, è il futuro anteriore, di libero liberas, liberavi, liberatum, liberare. Ecco, proprio letteralmente, non ti avrà liberato. L'uomo deve percorrere tutto il suo cammino terreno. Sarà Dio a stabilire quando sia giunto il momento di interrompere la vita. Solo a questo patto potrà aprirsi la sede dei beati per l'anima del giusto. Il suicidio è condannato, in polemica con, non solo con gli stoici, ma anche con i cinici e persino gli epicurei, che ammettono, anzi addirittura in alcuni casi, in determinate situazioni, consigliano il suicidio, quando si perde la libertà politica. La vita terrena è una specie di palestra, invece, per i platonici, dicevamo, in cui l'uomo deve mettere a frutto le sue capacità, mantenere pura l'anima, svolgere il compito al quale la divinità l'ha chiamato, ecco, e quindi sopportare, in un certo senso, anche i limiti del corpo, forgiarsi, per poter essere degno poi di risalire al cielo, luogo da cui le anime provengono, ritornare lì. Utibi, aditus, patera, non potest. Non può accadere che per te sia praticabile l'accesso a questo. Non potest. Non può, patera, essere aperto. Non può essere accessibile. Aditus, non può per te, Tibi, essere aperto, accessibile. L'aditus, l'ingresso, l'accesso, huk, qui, in questo luogo. Non puoi ritornare qui, insomma, se ti togli la vita da solo. No, davvero. Non può testpatere. Non può essere aperto. Il Tempio. Ecco, infatti. Ecco, vediamo un po'. Il sostantivo Templum. Il sostantivo Templum in origine indicava la porzione di cielo che l'augure delimitava con un bastone ricurvo e dentro il quale osservava il volo degli uccelli per trarre gli auspici. Passato poi, solo in un secondo tempo, a indicare il luogo di culto, il Tempio, esso veniva usato poeticamente anche per indicare tutto quanto il cielo. Ecco qui, l'etimologia del termine Templum. Avete delle domande da fare su questa spiegazione, su questo commento? avete delle domande da direnchi,